Ciao ragazzi e benvenuti nella nostra lezione di disegno tecnico. Oggi andremo a fare la proiezione di un pentagono parallelo a PL, la cui superficie è parallela a PL. E questo pentagono dovrà avere anche un lato parallelo a PL. Come vedete, in questo momento io ho disegnato un pentagono, ma questo pentagono non è parallelo a PL, anzi, come potete ben notare, la superficie, questa superficie, è perfettamente parallela a PL. E oltre a questo, questo lato che sto indicando è parallelo a PL. Per prima cosa vado a posizionare il pentagono nello spazio, quindi devo mettere la superficie parallela a PL. Inizio a ruotare il pentagono. Faccio in modo che il lato sia adesso parallelo a PL. Vedete che il lato è parallelo a PL? Ed adesso ruoto nuovamente. Ok. In questo momento il pentagono è parallelo a PL. Lo vedete tutti? Quindi, la superficie, questa superficie, è parallelo a PL. Questo lato è parallelo a PL. Lo vedete? Dispongo in questo modo la visualizzazione, quindi la visualizzazione su PL, e vedo che questo lato è perfettamente parallelo a PL. Ok, andiamo a vedere quali potrebbero essere le vostre domande. Quindi, da qui, da questo punto a questo punto, questa è la distanza che ha il pentagono da PL. Questa qui. Da questo punto a questo punto, da questo punto a questo punto, è la distanza che ha questo lato da PO. Naturalmente ci sarebbe anche questa distanza, ma la lascio arbitraria. Quindi, le indicazioni che vi andrò a dare saranno la superficie del pentagono dista da PL, questo, 10 centimetri ad esempio, il lato AB, questo lato che sto indicando adesso, questo lato che sto indicando adesso, dista da PO, 20 centimetri. Quindi questa è 20 centimetri, questa sarà 10 centimetri. Vedete che questa distanza, cioè la distanza da PO, la vado a leggere sull'asse delle Z. L'asse delle Z è questa. Quindi, questa distanza, da qui a qui, sarà la distanza che è il lato AB, ad PO. Mentre la superficie dista da PL, quindi questa distanza, è quella che andrò a identificare sull'asse delle X. Cosa accadrà? Andiamo a vedere le diverse proiezioni. Quindi, proiezione su PO. cosa vedo? Un... tolgo quello che non serve. Vedo un segmento. Lo vedete? Eccolo qui. Quindi, la proiezione su PO non è altro che un segmento. questa qui è la distanza che la superficie del pentagono ha da PL. Ricordate sempre che quello che sto guardando adesso è PO. Andiamo a vedere su PV. Si vedrà, anche in questo caso, un segmento. Questo. Questa è sempre la distanza da PL. Attenzione perché questa sarà la distanza da PO. guardate. Distanza da PL. Distanza da PO. Proiezione su PL. Su PL vedo la superficie del pentagono. Il lato è parallelo a PO. Inizierò a disegnare le proiezioni ortogonali sul foglio da PL perché vedo nelle sue reali dimensioni il pentagono. successivamente andrò a tracciare le linee che identificano i diversi spigoli, i diversi vertici e andiamo a vedere cosa effettivamente si vedrà su PO, su PV e su PL. Riportiamo i diversi vertici, sempre nello spazio, sui piani di proiezione. Quindi, questo punto, questo punto, questo punto, questo punto e questo punto. Questo punto lo riporto su PV, questo punto lo riporto su PV, anche in questo caso, e questo punto lo riporto su PV. Riportiamo gli altri punti su PL, questo finisce qui, questo finisce qui, questo finisce qui, perpendicolari, ricordate sempre, e questo finirà qui. Ok, ho riportato i punti. Quindi, la proiezione del pentagono su PL sarà questa. Eccola. la proiezione del pentagono su PV sarà questo segmento. la proiezione del pentagono su PO sarà questo segmento. Ecco che ho determinato i diversi punti. A, A primo, A, A secondo, A, A terzo, B, B primo, B, B secondo, B terzo, e così via per gli altri punti. Andiamo alla visualizzazione di quello che si vede. Questo sarà la proiezione del pentagono. Queste sono le linee di riferimento che vado a tracciare su PV. Questa sarà la proiezione del pentagono. Queste sono le linee di riferimento. Su PL, questa sarà la proiezione del pentagono e queste sono le linee di riferimento per determinare le altre proiezioni. Guardate cosa faccio adesso per mostrarvi quello che accade sul foglio da disegno. trasformo lo spazio in un piano. Quindi devo ruotare quello che vedo sui due piani. Adesso PO e PV sono con planari. Ruoto nuovamente quello che c'è su PL in modo tale che sia con planare agli altri due piani. Ecco che ho ottenuto le tre proiezioni del pentagono. Partite da questo. Riportate quindi naturalmente voi dovrete tenere in considerazione questa distanza che è la distanza che ha il lato AB da PO. Ok. Riportate questi punti qui. Questa qui è la distanza che ha il pentagono da PL e riportate. poi create un arco riportate diversi punti ed successivamente questa è la proiezione su PO questa è la proiezione su PV e questa è la proiezione su PL questa che ho indicato è la distanza del lato AB da PO questa che indico adesso è la distanza del pentagono da PL vedete questa distanza è uguale a questa questa distanza è uguale a questa non non questo è uguale a questa è uguale a questa è uguale a questa è uguale a questa